Benvenuti alla decima puntata. Pure i pulci te ne hanno tosse, anche le pulci hanno la tosse, in senso metaforico vuol dire che vi sono dei soggetti che vogliono darsi delle aree attribuendosi titoli qualità e diritti che non possono avere e ne rivendicare. In senso figurativo si riferisce ai bambini che si vogliono sentire adulti e compiono delle relazioni non adatte a loro età. Nel senso letterale del termine le persone, cioè chiamate pulci, vogliono sostituirsi nel ruolo e nelle mansioni a chi ha più diritti e titoli di loro. Per esempio, un collaboratore scolastico che si sente segretario, un professore che si sente preside, un collaboratore ecologico che si sente chissà chi, cioè ognuno praticamente dovrebbe, perché tutti sono importanti, dai lavori umili a quelli praticamente sia dal punto di vista culturale che cooperativo, di un certo pregio, di una certa utilità, di certa importanza, va bene, sono utili. Ognuno riveste il ruolo in base a quello che è e quello che ha, in base alla formazione e tutto il resto. Se si è ignorante, uno deve fare di tutto per istruversi. Se si vuole fare carriera, deve fare dei concorsi, deve lavorare per migliorarsi, perché è opportuno che tutti abbiano la possibilità di crescere culturalmente e professionalmente. Però non è giusto invece farlo senza meritocrazia, attraverso il nepotismo, attraverso la politica, attraverso le raccomandazioni, attraverso il decalculismo, attraverso tutte le strade che si vogliono intraprendere per essere quella che non si è. Poi c'è, dal punto di vista storico, un aneddito che riguarda la rivoluzione che c'è stata a Crotone nel 1799. Crotone era diventata repubblicana e aveva sostituito il sedile di San Dionigi con l'albero della libertà, simbolo della città diventata repubblicana. Si era affrancata dagli spagnoli e si era alleata con i francesi. L'immagine di San Dionigi presentava il santo vestito di abiti pontificali, seduto su un trono, nella mano sinistra portava il pastorale. Bastone alto con manico di curvo che rappresenta l'insegna della dignità vescovile. Dante nel 1321 lo definisce pastorale sebbaculus, da cui l'etimo cotonese baculo e da questo baculata, ovvero bastonata. Nella destra San Dionigi aveva la città di Crotone come segno di protezione, essendo il patrone e di cui Trastoria e Mita era stato il primo vescovo. Intorno a queste immagini erano raffigurati 30 stemmi nobiliari con armi araldiche e sotto ognuno il nome della famiglia. Dopo un po' di tempo, quando Crotone fu divenne repubblicana, il sindaco, il repubblicano Bartolomeo Villaroia, ebbe un figlio che fu patrezzato col nome di Libertino, ai piedi dell'albero della libertà, presenti il vescovo e tutti il clero, nonché il popolo, comprese molti notabili. Fu una gran festa, arricchita da ripagioni copiose, vino a volontà, liquore, dolce, tutto a spesa del comune, come era consuetudine e come è consuetudine, per le feste popolari che gestisce il comune. Dopo alcuni giorni per non coprirsi l'edicolo, il nome del bambino cambiò e da Libertino diventò Leonardo, che da adulto, dopo severi studi a Napoli, diventò un grandissimo chirurgo. Che c'entra pure i pulci cittadinanatossi? Perché i popolani, durante i giorni della Repubblica, pensavano che le cose fossero cambiate radicalmente, di essere diventati padroni della città, sollecitate da Villaroia ed altri reazionari sulle orme della rivoluzione francese, basate su libertà, fratellanza, uguaglianza. I popolani avevano scambiato questo con il senso di una libertà assoluta, di un'uguaglianza assoluta e che loro potevano benissimo sostituirsi ai ricchi, ai potenti, ai nobili. Un giorno, donna Bettina Ayerba d'Aragona, moglie di donna Mertillo Grimaldi dei Ducchi di Genova, stava dando disposizione alla servitù sulle cose da spiegare durante il giorno. A un certo punto le si parò davanti una donna che era entrata perché allora le porte erano sempre aperte e questa donna, senza preannunciarsi, va bene, si mise davanti alla nobile donna e con una bella faccia tosta, senza salutare, disse «Donna Bettina, ma tu e io siamo diventati uguali, tu ti metti i soccoli miei, ed io stavo detto tu». E nel dire questo, stava quasi, per togliere la piegata, e stava portogliere gli stivali a donna Bettina. Ma la nobile donna non si fece intimorire, si scansò da lei in modo repentino e la fece cacciare fuori dalla sua domestica, pronunciando queste parole «Tu ti stai al posto tuo, ed io ero mio. Se ti hai bisogno di anche una cosa per i figli tuoi, bene, che ti hai bisogno di anche una cosa per i figli tuoi, però tu si chiede così, ed io si chiede così». Non passò nemmeno una settimana che si presentò sempre la donna Bettina un tamarro. Altrove, detto burino, truzzo, zarro, senza salutare, senza togliersi il cappello, come d'indole d'abitudine, lo zatecone, senza saper leggere e scrivere, si parò davanti a donna Bettina. e chiese per conto del figlio la figlia cedicenne della nobile donna per il proprio figlio che di anni ne aveva venti. «Donna Bettina, figlio ma è un grande faticatore, e la figlia vostra sapete come la portare, come la potesse portare, su un panacchente di mano, come una regina?». Donna Bettina, con molta calma, gli rispose che si sarebbe sentita onorata di concedere la figlia a una famiglia e a un grande lavoratore come il figlio, ma avrebbe potuto soddisfare la sua richiesta non appena la ragazza avesse compiuto 18 anni. Questa risposta cordiale e serena soddisfò lo zatecone, che la ringraziò, dicendo che si sarebbero visti nella data che lei aveva fissato. e certamente non più tardi, perché lui era un uomo di parola e prestava fede alla promessa, che per lui era come se avesse fermato un contratto, dove non notare, con tanti testimoni. e la donna Bettina, facevano la compagnia da fuori la porta, ha detto «pure i pollici tenono la tosse». «Pure i casi più centri non mancano la tosse». Anche nelle case più misere un pezzo di pane duro si trova sempre, da fare poi pollito in un'altra maniera. E a proposito, c'è una lirica al riguardo. Sicca, la panza è sicca. «Coscenente, giù in tipo d'erreo». «Avoggio il stomaco non picca, che può ingermitiare il cervello». «I macchiniare il giro macchiniare». «E l'occhio ci vanno a fare la scorsa, picchino e picchino e picchino, che l'hanno rinunciato, morso a morso». «Tagliando il bucatoio, subito e sotto, i gambe conciate a rinunciare». «Uo cristiano va cercando un sempre sotto, ma venga un po' di tettola del vero». «Ti getto cerca il tuo letto cimicioso, subito le tavole appoggiate, e come un cugno, un crino cimentoso, che ha rinunciato una certa lanciatata, che non fanno riposare». «E com'è piccinoso questo un pezzo, che fanno proprio lazzareare, mentre si gira e vuota, pezzo pezzo». «Quante sonne che ho giocano rosso, con il cuore tutto spandicato, la voca, forse, forse, a chi non posso, con tanto muzzicone ammuzzicato». «Punta stessa con la patata, la lecce bruciente e regalata, la salsiccia con la piccetta, con la tetra, con la tetra, con il cuore tutto spruccionato». «Tanti disciapogliati alla patata, due porticette insanguignati, lo rispiegliano subito e ridendo la ciottegna, il sacco di occhio ranno strausato, incazzato, lo vedo a me sul letto e semente accamato a gestimare, e rimane, poi stringono lo petto». «Quante credate, quante credate sente inciamare, posacquete, ricurre a Maria e impapoggia ad occhio un rosario, che giello in tuo cuore, in fila mia. Quelle forze la preghiera si quotia, mentre l'anima vi come straghiera, il cervello arripeggia e sfrigolea e naspera intanto il cervello, un po' dopo m'era. Cimentato, com'è sfrigoleato in un pozzo, mentre l'occhio, due per tre sette, vedono solo la terra sicca intanto il pozzo. E cosa da fare? La fama è utile a fuori, come un'anima, la capacità, e gira e botte, botte e gira, a medugia e pigia in un pensiero soio. Penso un angolo di cestetta, finché vedo se c'è uno stozzo, proprio vicino a una maestra. Con un sacco, il capo lo giro, lo uozzo, con l'occhio, non è che ci creda. Questo, questo, pia, lo toccare. Un po' detto grosso, e come si vede, ha i denti molto, molto, a mozzicare. E' sgangato, e ho potuto cugionare. Quanto cielo, quanto tempo, sta da pensare. Ma con Cristozzo, paparia, che solo raggia e pelle, può buscare. Un'umiloccio ci c'è lì, 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 c'è lì. Ora se pia, pia, per ruikusetta, ruogenaram, quello coco модed sa daistically incire, in acqua Ce c'è a pensare che ma c'usbola si fa finalmente concedere. Voglio tua l'acqua, voglio tua, voglio! Cristoz, pare, pare, morsa, morsa, ma tra l'amore che decano si sceglie a costo potete a trapponare Forze. Il laudo come vidi solo una foglia, Nuffo il centro d'occhio una scolatina, Una pizzicata di sale che si scoglia E con una cucchiaia di ligno dormina. Che spizzo bello, che curiosa gulia A sentire che la dora è speranzata Da regolare un cervello paparia Con l'occhio di preizia scancarata. Cucinati stossi cotti, risassetta, Finuti per cotta una buffetta, A non gulicchi, che cosa avete letto? Che a tutti vogliono dare questa ricetta. Se i baroni potessero vedere, E rucano loro, certo, sentire Quante ammiglie avessero da avere Che a stare una cosa, un po' non tenere. In Tufun, Scin, a cavo del rosso, Più vicente un po' mancare, Che stai più potenti rosso, Pure che il peppino fa accettare. M Grazie a tutti.